La polizia torna al comune di Comiso mercoledì mattina, ma la notizia è stata diffusa solo adesso. Un nuovo blitz è stato effettuato da squadra mobile di Igos e commissariato di polizia. Sono state acquisite carte e documenti relative ai viaggi istituzionali e alle trasferte all'estero compiute dall'amministrazione che si sono succedute alla guida del Palazzo di Città dal 2000 ad oggi. Ma non solo. Gli agenti avrebbero prelevato anche carte relative alla dotazione organica dell'ente, incarichi dirigenziali e progressioni verticali dei dipendenti. Il sindaco Alfano dal canto suo si dice sereno, finalmente, ha detto il primo cittadino, si cominciano a controllare anche atti relativi all'amministrazione che ci ha preceduti. Sono sicuro che dei documenti prelevati verranno fuori cose molto interessanti riguardo cifre, numeri e dati. Certo, aggiunto Alfano, bisognerebbe capire se gli accertamenti hanno interessato anche le amministrazioni comunali che insieme a noi hanno effettuato le trasferte all'estero, come nel caso della missione in Paraguay, a cui hanno partecipato anche provincia regionale e comune di Gerratana. Le indagini dunque proseguono. Grazie a tutti.